Musica L'intervento oggi pomeriggio, domenica 20 maggio, dei vigili del poco di Cornier e dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea sulla strada che da Prascorsano conduce a Pratiglione. Una piante è caduta assurendo la strada pericolosamente dopo una curva. Un giovane che si è ritrovato davanti è allertato al 112. I vigili del fuoco volontari giunti sul posto hanno tagliato i rami e rimossi liberando la strada. Un giovane che si è ritrovato alla strada.